Ciao a tutti ragazzi, qui c'ho io, Craco52, sono ieri di continuare in Arkestage 2 Allora, andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo almeno a fare qualcosa di decente Quando ero al lavoro, mi è venuta in mente una composizione strana e tutti i damage over time Però adesso che ci penso, l'ultima volta abbiamo preso su Trinket per il bleeding Quindi direi che un Elion ci sta, ma io vedo anche l'Eleon, possiamo usare l'Eleon, quetta No, adesso lo vediamo, adesso lo vediamo per bene Perché il boss finale, dobbiamo, non lo so, non lo so veramente Bisogna vedere, è un po' complesso Cosa fa? Fa un rituale? Vabbè, ma vuol dire... Ok Allora, ho deciso di fare così Allora, delinea, basta usarla con il blighting, perché veramente non c'è un cazzo di vita Allora, vediamo un po' Vi vorrei tanto usare te Vediamo un po', temerario, cliptomane Guarda, tu vieni qua subito in seconda Poi Lavora maglia quando stai le leite di te con... Cacchio vuol dire, non si sa No, questa roba no Amore per la luce Se fiamma, burbero, no, no Tu non fai schifo Sprezzando Aspetta Mamma mia, quando si sposta Mamma mia Più di speed, più due Tu? Posso usarti in terza? Posso usarti in terza? Questo va avanti di uno? Meglio di no Baluardo Sapete cosa? Però serrata dei ranghi Veramente fai il tencone super gigante Eh, io dico Fai il super tencone Tu? Più cinque di speed Al primo round però Vabbè Tu? No No, nel milino Tu? Paura degli abissari Ok Allora, delinea Tu vai in terza Mi serve uno Allora, tu fai Fai così Perché veramente Guarda Crepa subito Perfetto Allora Togliamo questo Mettiamo questa E Anson prevention Mettiamo questo Ok In realtà no Possiamo anche Anche tenere Anson prevention No, facciamo così Sì Poi mi serve uno in fondo Uno in fondo Tu? Piromane Mmm Meno due di speed però Porca troia Questa cosa è terribile E fa veramente cacare Un occultista magari Una Uno di lei Ci starebbe però Ci starebbe Sapete cosa Ci starebbe anche Batosta Conforto divino Che pale Questo qua è il Party Hill Ma guarda dove cazzo è Il fondo è Mamma mia Allora Tu Possiamo mettere Perforzioni Bleeding Meno 20% Di max HP Mmm Meno 33% Facciamo così Poi tu Possimento impossibile Debuffi Disagi Cosa cambia? Posso usarlo in terza Ti posso usare in terza Così Madonna Qui Cioè Sapete una cosa Mmm Bessario Arriteramento Due di Blight Aspettate un secondo Questo qua Posso usarlo in terza O in fondo addirittura Aspettate un attimo Posso solo in fondo? Minchia Meh Però se metto questo No no Va bene così Mi serve un ultimo Usiamo Quellui? Usiamo Un money d'arms In fondo Sembra abbastanza Ridicolo Ridicolo Però Un money d'arms In fondo Mi sembra abbastanza Ridicolo Sinceramente Quindi Cosa facciamo? Un Dismas Che spara? Nah Lei? Occhio Da aquilare Senza Lo facciamo così Così abbiamo tutti e tre Abbiamo tutti quanti Così No No Non sa Così E Sì Facciamo così Così abbiamo tutti Questo qua è il party Che volevo fare Però c'era lui all'inizio C'era lui in cima Forse è meglio mettere lui in cima Va davanti Così può fare la guardia Può togliere stress Forse sapete che fosse meglio lui Non lo so Un gruppo evitato Più o meno Di stress Forse è meglio fare così No No Così va bene Così va bene Dai Proviamo così Non abbiamo Non lo so Vediamo un po' Abbiamo del tauntorn Abbiamo la guardia Però abbiamo Stealth Un sacco di damage Over time Sapete cosa Che ci sta pure Abbiamo del damage Over time Contro gli stronzi Cultisti No Gli stronzi Cultisti Hanno super mega Block Del cavolo E va bene così Per me va bene così Guarda Tu Ti serve Posso toglierti Questo Ti metto Rimuovo i winded Così E posso toglierti Lo stun E facciamo così Ok Tu in realtà puoi anche stare Puoi anche andare così In realtà Così Metti il debuff Aspetta Togli questo Dei cadaveri Ehm 20% Un'altra cura Un'altra cura Cosa posso togliere Questo qua Facciamo così Così vai debuff Rimandi indietro Fai debuff Proviamo così Dai Tu c'hai la tua Sì Questa no ragazzi No 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 Crepa troppo A me Delina piace usarla Con 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 Lo Vai avanti così Vediamo Vediamo se riusciamo Abbiamo del taunt Per gli occhi Per gli occhi in fondo Non abbiamo Della Della guardia Però Ma tanto La guardia Non serve praticamente a nulla In realtà Allora 28 hp Eh Sono pochi Sono tanto pochi 28 eh Guarda se riesco a trovare il trinket Quello per i da Per il Per la Come si chiama Per la vita in più Io lo do a lei Allora Tu Aspetta tu Abilità di distanza 66% Perforazione di distanza Death door Allora Quando il gruppo Va segno Se fiamma Abilità di mischia Facciamo così Facciamo Io ti do Do il bleeding a te Poi do lo stun Chi è che ha lo stun alto Aspetta tu Non lo do a te Poi Eh Minchia Questo 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 qua Eh Questo qua Bisogna darlo a lei Do Abilità di distanza Perforazione Death door E Cosa posso darti Abilità di mission Perforazione Death door resistance Ok Quando troverò Quello dei cultisti Lo switcherò Con lui Ok Va bene Andiamo avanti Ah giusto La cosa di Wilbur Non serve Però Gli ammetto Così almeno Non c'è più Cosa Avanti Ragazzi Stiamo Stiamo Alla Pag doctor La Pag doctor Bleeding È veramente Una cosa Stupidissima Però mi garba Pag doctor Bleeding Ok Vediamo se Riusciamo arrivare in fondo Ho fatto un party contro I cultisti Del cavolo Guarda qua Guarda qua Allora Ricoperturiamo Goffa Menudo di speed Va bene Provincia battaglia Keptomane Ok Facciamo Facciamo subito così Vai Dovrebbe Si dovrebbe esserci Bleeding Praticamente Assicurato Con questa roba qua 300% Perforzioni Bleeding Quindi in teoria Si Arretramento Uno Vai Minchia Fa poco Fa Fa meno damage Cioè Fa Meno damage Over time Però picchia forte Vai Respinto Va bene Dai Un po' di horror Facciamo così Ok Ok Ragazzi Veramente Sono rotto le palle Bisogna sperimentare Bisogna sperimentare Non me ne fai a pie Bisogna sperimentare Allora Facciamo Facciamo così Però Non da più damage Over time No Però Da debuff Che ci sta uguale Allora Facciamo così Meglio aspettare qua Vai Tanto non lo metterà mai Invece l'ha messo Ok Ok Respinto Per fortuna Vai avanti In realtà è morta 2 HP Posso correre qualcuno Grupa tutti gli embremi Tipo negativo E se li mette su di lui Voglio morire o no Grazie Sarà molto lento Il fighting di questo party È molto lento Sarà lentissimo Ok Perfetto Fa di una lentezza Sto fighting qua Sapete cosa Forse è meglio mettere Lei all'inizio Nah Forse no Lai Accendo il ventilatore Perché ci muore il caldo Scusate se c'è casino Ma io 37.000 gradi Non sto Ok Va bene Cos'è che è qua Ottieni i bersagli Aspetta Due bersagli Ottieni fino a tre Chi è che si odia già Vi odiate di già No Facciamo Boh Vogliate due Più tre Minchia che culo Più quattro di speed Fino alla prossima locanda Poi Allora 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 33% di combo Vabbè Arretramento più complica Questo qua mette combo A caso Allora Prima è roba da fare Così Poi Ignora Rimuove blind Sapete che vi dico io Io metto questo Ok Poi Carraio Ricostituente Va bene Andiamo un po' Se possiamo Anzi Equipaggiamento Stagnino Perforazione De buff Più uno di speed Più uno di HP Più 10% Sapete cosa Sono Sono Tentato di mettere questo Però Più uno HP Meh Non lo so È 82 Aspetta È più Più 100 Se reliquie Più 20% di HP In più Quanti HP Hai adesso 28 Ok Allora Facciamo così Allora In realtà Ci sono delle cose No in realtà Non ci sono Parti Più Sleglotte Dell'inventario Tipo Tessuto Marchingegno Però il cibo Possiamo staccare Le cose Facciamo così Facciamo così Un investimento In ruote In ruote Ancora Culinario C'è Acquipaggiamento Di culinario Qua Stagnino Dossuoso Intanto mettiamo Lo slot Qua Poi La cosa dei rapporti positivi Aiuta Ma neanche tanto In realtà Io provo questo Sinceramente Proviamo Proviamo questo Tanto Ci dobbiamo perdere E sperimentiamo Vai Accetta Poi Posso comprare Un paio di questi Anzi Compriamo la luce Devo stare sopra Dai ma Tanto posso anche Andare avanti Poi Uno di questi E Leudano No Otto Quanto Quanto Stun Aspetta Cos'è che dava E Quattro oggetti Di cibo Nah Poi Resistenza Blading Aggiungi Rooting C'ho già la luce Aspetta un attimo Si Beh Posso anche Tenermi In realtà Facciamo così Mettiamo Voi altri due Dai Quanto è che Mi fuori qua 13% Meh La vedo un po' dura Eh Possiamo Qualcos'altro Magari Magari No queste fanno schifo Prendiamo questo Un paio Magari E basta Gli do A te No Tu ce l'hai già Facciamo così Ok Dove dobbiamo andare 100% Sporrezione di luoghi Visita un'osia Sporrezione di cave Che dobbiamo comunque Fare la boss fight La boss fight La facciamo subito Facciamo il generale Che è semplice Facciamo il generale Dai Sì Sì Facciamo il generale Avanti Per la boss fight La faccio subito Perché se no dopo Se lo diavo Arriviamo alla fine C'ho il party Tutto I cazzati neri Meglio Meglio fare la boss fight Di che Di che vanno d'accordo Più o meno Ok Ma io ero ultimato Perché Che cosa Anche nella selva Usare i pei medicinali Nel fetore No no Il fetore Ragazzi non lo facciamo Allora Studio accademico Covo Aspetta Qua cos'era andare In uno osi Sì L'osi Dove cacchio è l'osi E' questa l'osi Andiamo Facciamo Eh non posso andare Sia la boss fight Che fare l'osi Quindi niente da fare Pazienza Allora facciamo così Andiamo a sinistra Tutto Sinistra Sinistra Boss fight Avanti E' questi punti esclamativi Cosa c'è Via Allora No 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 Andiamo di qua Ok Saranno i No di solito I conti di strada Sono sempre i briganti Infatti Ok bene 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 Che bello che mi da il dodge Spero ci sia un trinket Che mi Mi lasci fare Tipo Converti super dodge Cioè Converti dodge in super dodge Allora Tu Sei Ti danno Madonna Quanto Quanto Ti è Tu prendi 5 Ti è Tu sei già morto Ok Quanto danno Sei Eh perché l'ho L'ho migliorata Sei di Blaming Sant'ideeo Ok Tu sei già morto Non so cosa dirti uomo Ti blindo E boh Ti faccio così Bene Sanguinamento Non lo usavo mai Sulla Sul vecchio Darkest Dungeon Però Qua sembra Che c'è una buona skill Questa Avanti Avanti Sono tutti così Fight Guarda Dove devo firmare Dubito C'erano tutti così Però Ok Vediamo se riusciamo a prendere Della melma Uh Via Via Ma devo rimuovere questo Pure Aspetta Paule Noi potremmo andare tutto a sinistra Così prendiamo questo C'è un sacco di loading Però C'è un sacco di loading No meglio andare in mezzo Così evitiamo un po' di loading Sì 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 Decisamente Decisamente sì Allora Cos'è Ornamento Tratto positivo Melodia stonata Un trinket O un tratto Meglio un trinket Cosa mi dai È un levato casuale Meno uno di stress Più uno di stress Ma che Vabbè Ci proviamo Cosa vuoi che ti dica Flauto del vetro astrale Però 60% di stress C'è di meno uno di stress Per ogni inizio di turno Quindi può anche fare Più Può proccare più volte Quindi non è Non credo sia un problema Proviamo Al massimo lo tolgo Se dà problemi Allora Sinistra Che ostruzione c'è? Ah Che palle però Che palle Sento loading Ma prima è che dobbiamo incontrare l'exampler Un'altra volta Uh Le armi La pipa Allora Fight Più strength Fight più strength Ok Dobbiamo sentire che c'è il quad dell'uomo Non è pazzo Ok qua non c'è il quad dell'uomo Non è pazzo Va bene Allora Voi altri cosa Non mi ricordo Ustione Signoramento Allora 6 Posso ucciderlo subito Vediamo 12 Minchia eh Perché sotto strength Allora Crepa Poi posso già fare così in realtà Facciamo così Ok 8 E spinto Bene Poi Questo è blindato Quindi colpiamo lui Bancato Lei ha il dodge Crittata Va bene Però non mi bledano Ma qual è l'attacco che bleda scusa L'analisi È l'attacco che non è l'attacco che non è l'attacco Che non è l'attacco Brucia lui Poi Ma io direi anche di picchiarlo e basta sinceramente Mettiamo il taunt Facciamo il sanguinamento Ok Mi sorprende sempre Però picchia Picchia lui Bravo bravo Vai Che Bene Mi crepa che tanto non ha Restore resistance Ma questi danno dei buff Hanno qualche marchio strano Fammi vedere Sono roba elite No Ah se è solo una chance Vabbè Vai così Sì Mi torno dei buff E basta Vabbè Meglio Meglio Che ti dica Allora Tu sei crepato No Però meglio fare così Ehm Vai Ok Adesso tu Tu fai così Così magari ti fai meno danno Metti il meno danno Va Che già fanno troppo danno Per i miei gusti Infatti 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 Fatto bene Fatto benissimo Ah Ha broccato la La cosa Ha broccato la Il meno stress Allora Tu Boh fai così Ok E tu No Questo è stesso quadrigione Ah Bersaglio con un emblema negativo Ma posso solo rubare i cosi negativi qua Vabbè Ma non serve neanche curare Fargetta Fai così Bene Perfetto Uh Guardate Guardate che adesso c'è il Ricordate Il Trinket Quello dei cultisti Di cui parlo sempre No Quello che va Mi da più Più danno Cioè più vita Chissà Adesso Non ci sarà più Guarda Sarà sparito Nel nulla Questa qua Da 28 Siamo ancora scassi Siamo ancora scassi Abbastanza Luce 74 Ok ci sta No Sì l'ho preso Vai Ok Ok Trinket In ogni Questa è stata una Un generale E il suo Guardio Lo 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 Cosa fa Alla fine Non so manco che fa Alla fine Picchiamo uno A Carlo Dai Questa è stata Un'idea di merda Te lo dico Ok Tu Fammi un favore Dai da lui Ok 50% di danno in più Eh ma c'ha il coso C'ha No Così Ok 9 di danno Questo è già morto Praticamente Ok Ma vai in avanti C'ha un lunge Tu cosa fai in fondo Fai solo un guard Ok Però meglio far fuori Prima I piccoli stronzi Qua Picchia lui Poi È da uno di stress Vabbè Allora Tocca a lui prima Ok Ok dai Sei Ci sta Poi Tu sei già morto Eh ma Questa di dare posto Facciamo Prefinge danni Quindi se faccio così Non fa niente Merda Vabbè Badonna Ok Si va Ok Porto bene Lui è meglio Tenerlo in fondo In realtà Meglio Meglio che stia in fondo Allora Tu sei No facciamo così Adesso lo devo curare Però lo cura lei Lo cura lei Molto bene Allora Ehm 53% Vabbè Lo so che Me ne pentirò Aio Gli era messo il morbo Però Bene Quanto danno Mmm Siamo Dobbiamo togliere Madonna santa Quanto danno Cosa farò ancora di no Ah noi due E' andato E' arrivato in cima Bastardo di merda Brutto bastardo Allora Togliamo Winded No non tolgo Winded Però vabbè dai Però Comunque Vabbè uguale Allora Cura lei Poi Posso rifarlo Siamo un po' esagerati Però un botto Di perfora C'è Ma io lo faccio C'è troppo bleeding C'è troppo bleeding Allora Rubo tutti gli emblemi Tipo negativo Facciamo così Sì Vediamo chi attacca Posso Ah io lo p Posso fare così No dovevo Ah posso Scusa posso rubargli Winded Dopo ci provo Dopo provo a rubargli Winded In teoria posso Aia Allora Tu cura lei Perché è tipo Negativo Winded Quindi in teoria Posso rubargli Vediamo un attimo No Non glielo posso rubare Va bene Ci stava Dai Ci stava Ci stava Era Un tentativo Degno di nota Screpa Mamma mia Ok 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 Va bene Lo segui Va Mamma mia Schifoso proprio Ok Non c'è il guardell'uomo Ne pazzo Bene C'è che vuoi macchiare Ok Macchia lui Adesso lo devo curare Però Curiamolo così E brucia lui Ok Poi Ce la facciamo 63 63 Mamma mia Chi è Chi è tocca Questo Tocca Ai 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 Ok Cioè no No tanto Però Questo ha 3 hp Crepa Facciamo Facciamo così Mancato Intanto questo lo risuscita Ma no Ma perché è al tanto Quindi non può risuscitarlo Bene bene Tutto calcolato In realtà no tanto Però ok Difesa Ma questo deve morire Non mi interessa Eh Aspetta Potrei Ricurarlo di nuovo Però mi sono un po' Esagerato No Puriamolo Stiamo sicuri Dobbiamo stare bene Sicuri Di quello che facciamo Allora Diamo io un bleeding gigante Ok Tu 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 Togliamo questo Colpisco il cadavere Faccio così E vai Bene 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 Adesso devo stare attento Però Quello che faccio Però Ai 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 Quanto stress Eh però Ci vogliono 60 ore Adesso Mamma mia Devo cominciare a togliere stress Da questo qua Mmm Il problema è che se muore questo per ultimo Succede un casino dopo Vabbè Non posso farci niente Ok Posso curarmi? No Posso fare questo? Posso fare questo? Mmm Facciamo così Quanti block Quanti block Cioè non può fare così tanti block però Ok Togliti lo stress per favore E ancora con la guardia Allora ti faccio così Vuoi colpirmi? Eh Faccio così Mmm Non riuscirò mai Farlo fuori subito Impossibile A meno che non faccio così Aspetta Posso togliere stress? 5 di stress o più Perfetto Eh o mi devo preparare un attimo Facciamo così Tanto non lo posso ammazzarlo Cioè Dai scoppia Dammi stress Grazie Ok Fettore Più 25 cento Converte vulnerable In block E meno E Oddio mio Inizio della battaglia Questo è Questo è molto bello Oh ragazzi prosegui Assolutamente Allora Generale Ci rivediamo eh Allora Chi è che lo colpisce? Chi è che colpisce le radici? Le radici le colpisce Sia la linea che il flagellante Possono fare in due 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 Quindi facciamo Cominciamo a fare così Poi 4 su 8 Colpisci normale va Poi tu fai così E tu fai così E' spinto Va bene dai Mamma mia Ok Adesso colpillo in due due persone Vai Malaise Misurata E Stazione Molto bene Un solo si agita Loro due lo prendono Se io lo do in step Succede qualcosa Veda Neh Intanto devo andare in winded Andiamo in winded Ok Tu Posso Aspetta posso blindarti? Proviamo Ok Anche meno danno Vediamo quanto danno fa L'attacchino Va bene dai Ci sta Però Cos'è che ti dica Allora Tu continua a fare così Sì Poi Arleni Toglie il bleeding Ti togli il bleeding Su lui Tu fai così Molto bene Sempre su loro due Sempre su loro due E allora io faccio così Ho mancato Vedi che il blind funziona Allora Mi devo togliere La roba qua Che è veramente Tanto danno Sì Poi tu Vedi che il winded Che conta come brutto Il winded Ma non tu lo vedi Però meglio fare così Sembra respinto Devo colpirlo però adesso Eh sì sì Lo devo colpire Lo devo colpire adesso Va bene Va bene Va bene Usa le cure Facciamo così E facciamo così Coppire a lui Ma vabbè Devo colpire Devo colpire Questo qua Ok Va bene In realtà Va benissimo Merda Merda Torna indietro Torna indietro Da delina Bastardo Grazie Mamma mia Devo fare Per il solo Ci agite Tra Voi due Tu lo puoi tankare Tu no Ancora 12 di danno Hai Ok Tu fai così Adesso Adesso fa il solo Si agita Sì vabbè Tu lo colpisci Si continua a fare Dagli bleeding Ok Posso staccare Bleeding Quanto voglio Ok Ok No facciamo così Poi Mi metti l'utilizzo di super Che palle La brucia Mmm Così E Così Si 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 Un attimo Un attimo Eh vaffanculo Però Eh vabbè Togli Winded Se ci riesci Non l'ho curata E basta Ok Mamma mia Togli sta roba Ok Ok Ah Si dopo tocca il flagellante Quindi posso fare così Quindi adesso lui colpisce Fa Questa cosa qua Ok Ok Sanguinamento Un'altra volta 36 A sto punto Direi anche di si A sto punto si dai 32 Minchia no no Dobbiamo far fuori ste cose Quanto è 6 12 Prende 14 A turno Vai indietro Grazie Vai indietro Cosa fa adesso Solo si agita Ok Stress Dai Wow Wow Dai Dobbiamo chiuderlo Dobbiamo chiuderlo Sì Dai una curetta Va Ok Tu sei Sì Hai preso tutto il danno possibile Dobbiamo farlo fuori adesso Per forza Uomo Ok Ah Fa tossicità di nuovo Ho insicurato Grazie Crepa Molto bene Ok Grazie È stato lunghissimo Sto fight Oh di Dio Cos'è sta roba La roba curativa Rimuove burning Ok Prendi tutto Dobbiamo rifare i cosi I rapporti Però va bene Dobbiamo rifare i rapporti Ma va bene Cioè Soprattutto i suoi Mamma mia Che schifo Ok Allora 50% Inizio della battaglia Questo va Converte vulnerable In block Allora Se l'unica che ha avuto Un'albo È lei Va bene Questo dai Ok Vai così Intanto ridurre lo stress Abbiamo lei Che riduce lo stress Devo migliorare questo In realtà Ok Avanti Oh ecco finalmente Lo schifo di Di cibo Avremo no Una Mi sa che ho preso Sbagliato Prendere l'animaletto Cosa mi potrei usare Di un'altra volta Arlene Cosa potrei fare Cosa potremmo guardare qua Si deve avere un po' Un'altra skin in fondo Forse Lo fosse lei Le altre skin quali sono Lo fosse lui Mettiamo un'altra sua Cosa potremmo guardare qua Intentazioni Maniche Con la necessità Di un'alusiva Apotheosis Si è Goggia Non si è Non si è Ma Il sangue Si è Il sangue Il sangue Il sangue Si è Faltato E I Sbagliati Di La morte Si è Violenta In I Sbagliati mamma mia si picchia finché non muore ma che problemi hai cosa che è sta roba sofferenza requisito se stesso questo mi piace questo porca puttana per il cazzo di come si chiamano per i cultisti mamma mia guarda dove devo pagare dove devo firmare dove devo firmare questo qui si anzi no teniamolo però teniamolo però teniamo questo però per quando ci sono i cultisti quel cavolo di cardinale di merda dove dobbiamo andare andiamo a sinistra aspetta no non posso non posso andare a sinistra perda non posso mi arriva il loading al massimo non posso ha più vita no non posso non posso andare a sinistra non posso assolutamente andare a sinistra e però cazzo guarda che manchiamo tutti i cespugli ok capai questo qua toglie il loading vero? si costituenza da forza anzi facciamo così togliamo questa ecco qua fight fuga mamma mia fuga meno torcia quanta torcia abbiamo? posso leggere posso leggere quanta torcia abbiamo? allora 9 10 andiamo via 69 siamo bassi eh siamo piuttosto bassi di torcia e vedi che c'è il loading anche qua maledetti infami bastardi aspetta cos'è che è eserimento fiamma? mamma mia siamo bassi di fiamma ragazzi non si vede una sega nulla 61 dobbiamo fightare qua guarda chi è che va meno d'accordo aspetta 12 tu ok dobbiamo fightare devo mettere la luce devo togliere il stress ok non c'è il cuore dell'uomo è matto siamo già a 10 ok fantastico dai fantastico perfetto ah ok va bene chi è che tocca prima? allora facciamo così poi tu brucia ne brucia lui tu togli questa che non mi garba fai così e tu 23 no non teniamocelo cosa ok molto bene altro stress eh ovviamente si si ma è ovvio ragazzi ma è ovvio cioè non siamo qua a sindacare non siamo qua a sindacare su cose che non esistono allora ok diamo una una curetta tattica a qualcuno 9 no adesso faccio il tanto con quell'altra tipa picchiamo no facciamo così ok adesso facciamo il taunt ti è tu ti curi da sola facendo così ok va bene va meno bene 4 vabbè ok adesso posso fare 5 o 12 questo è morto si curiamo di nuovo poi tu brucia brucia lui tu fai così no tu sei morto mmm guarda gli posso rubare il token di si lo facciamo così andiamo facciamo di nuovo questo poi gli rubo questi così lui cut out molto bene mmm allora brucia 6 6 6 questo è morto molto bene tu non hai ancora il taunt però li faccio così si tu scoppia tu non scoppi vabbè ma te ho appena curato che tu coglioni l'ho appena curata che palle mmm mmm togliamo dello stress vai così che faccia da culo veramente guarda era meglio quando mi mettevano il bleeding sti qua ma veramente aspetta un attimo eh era meglio quell'altra perché il dono della frusta curava oddio in realtà dava i buff in realtà e vabbè ovviamente no facciamo così tatina curetta tattica a sto punto si ti dico guarda no si allora così molto bene tu picchia lui ok adesso posso curare lei un sacco di danni perfetto allora di questo poi di questo sei due su cinque quattro su cinque ok ok mancato bene perché era blindato da da quell'altra tipa ok adesso è morto adesso è morto e io farò farò così perché l'animazione è fica cosa che ti dico io diamo una corretta boa a te poi tu facciamo così e tu facciamo così mori se ne vada grazie 9 di bleeding 9 di bleeding son di dio ok soldi eh ragazzi però il flagellante è difficile da gestire però eh questo lo devo dire è molto difficile da gestire perché se ti va in crisi succede un casino ogni volta ok però abbiamo la test door molto alta eh ho 68 perché debuff però 64 c'è meno 20 meno 15 abbiamo solo sugli 80 di test door resistance quindi è buona come cosa ok cultisti bene cominciamo tu mancato bene ah questo si no non si baffa ok poi ah perché devo ah devo ho capito ho capito forse forse può togliere le wind può toglierlo forse voglio fare così 63 43 no facciamo così mettere il taunt mette sto faccia da culo mette il taunt e la cura ma è giusto che sia allora no no io voglio che questo muoia però questo può farlo fuori quell'altra allora facciamo così 5 su 10 vai puoi farlo tu però è mancato eh vabbè burning tanto c'è le herbe medicinali guarda va oppla là poi ah perché tauntato madonna santa di dio allora facciamo così un'altra cura se ne faccio da culo no gli ho dato questo ok eh ma io cosa tolgo a fare no io ho puro non mi fido non mi fido per nulla non mi fido adesso lo metto io il taunt però anzi facciamo così facciamo così puoi crittarmi quanto ti pare colpissimi stronzo colpissimi ok va bene crepa molto bene lui è morto adesso adesso arriva un crit gigante ha rivolto ok si 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 poi togliamo queste ciao taunt tocca due palle poi tu sei morto posso tocca a lui però facciamo così facciamo così ok potrei curarmi addirittura posso fare così facciamo così mancato ma bene uguale adesso mi curo lui è morto lui fra poco morirà è ancora tauntato sai che ti dico sai che ti dico crepa zero giustamente giustamente ho fatto zero di danno ok ok si facciamo così che va indietro così devi fare l'attacco stupido per andare avanti tre devo fargli quattro devo fargli nove molto bene ok adesso lui fa l'attacco quello stupido fa e fa tre quindi in teoria posso annullarlo lui lo posso annullare col lo posso annullare su serio ok ok va benissimo va benissimo in realtà ok curati tu vai indietro bastardo di nuovo merda l'hai respinto vabbè ok lui devi morire ma che palle sto cazzo di no suca ma perché era combatto quindi ha colpito anche l'altro così impari tre due sui tuoi turni 0-1 aspetta quanto bling 4 troppo bleeding ci basso sicura no si colpisce ok sono lentissimi i fight di questo party però è così così capito il convento va ok eh ovviamente taunt si si puoi mettere tutta la ristorazione che ti pare io ti blindo poi io colpisco forse colpiamo dai almeno proviamo a colpire adesso sono eh crepa dai ho due di danno finalmente due a ti a due di vita muori coppia oh alleluia allora fai così di nuovo oh adesso adesso aspetta 7 togli questa cosa è spinto no ma lo curo adesso lo curo adesso lo curo hopla piano piano stanno andando su eh due sei mamma mia quanto quanta roba blindalo va posso toglierlo si dai ha dato al massimo ok l'ha preso sicura sta cazzo di cosa è finita finalmente sta cura di 30 di cure senti dio 9 crepa ok mori va perfetto cazzo un'ora un'ora è la prima zona si vede che è più lento sto parte qua però è come funziona eh no 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 questa roba no 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 questa non lo uso più mi è morta la grave robber no no però quella roba lì mi è morta la grave robber no 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 scusatemi tanto ma allora abbiamo oggetti stavo qua abbiamo questo vabbè però ci stanno questo mi garba una regione ricevuta cioè una regione conferita mettiamo su di te o su di te mmm beh possiamo fare così questo mi sembra abbastanza stupido ok mmm possiamo fare così in realtà si facciamo così dai questo qua credo continui solo a a fiamma bassa quindi di a fiamma bassa vorrei non starci ho 115 quindi lei fa un bordello di danno vero più di un decennio di danno più di un decennio di HP eh mi sarebbe molto stare così però dobbiamo spendere grazie a tutti